Considerato motore produttivo dell'Abruzzo per la presenza sul territorio di grandi insediamenti industriali, la Val di Sangro è una tappa obbligata della tour elettorale dei candidati alla Presidenza della Regione, un'area della quale di recente si è parlato molto per i timori legati al futuro della ex Blue Tech, oggi Ingegneria Italia, oggetto di una trattativa per l'accessione alla MA-SRL del gruppo Magnetto. L'avvertenza dell'azienda di Atessa è stata anche al centro di un tavolo ministeriale convocato appositamente e dei temi legati all'occupazione si è parlato nell'incontro di ieri ad Atessa durante il quale Sara Marcozzi, candidata Presidente per il Movimento 5 Stelle, ha illustrato i principali punti del programma. Abbiamo sollecitato un tavolo al Mise dedicato all'ex Blue Tech Atessa che si è tenuto, insomma c'è tutto l'impegno da parte nostra per quanto possibile e soprattutto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di trovare la migliore soluzione possibile per i lavoratori. Per quanto riguarda invece gli altri insediamenti produttivi, resta un luogo competitivo la Val di Sangro o subisce effetti della crisi? Resta assolutamente un luogo competitivo e noi abbiamo tutta l'intenzione di renderlo ancora più competitivo di com'è adesso con delle politiche di aiuti ed incentivi alle imprese. Una delle prime cose che saremo chiamati a fare, se andremo al governo di questa regione io lo spero vivamente perché ci abbiamo studiato tanto, sono tanti incentivi anche per mezzo dei fondi europei e delle grandissime risorse che ci sono a disposizione per le imprese, incentivi per le assunzioni, credito d'imposta e poi delle grandi misure che ci chiedono sempre le imprese e che sono sempre state trascurate per l'accesso al credito e per favorire l'accesso al credito. Noi crediamo che questa regione sia stata un po' abbandonata negli ultimi due governi di centrodestra e centrosinistra, un po' abbandonata al suo destino. Crediamo invece in un governo che prenda in mano le redini della regione e assieme alle imprese, assieme ai lavoratori e assieme a tutti i portatori di interesse ci si concentri per lo sviluppo, un rinnovato sviluppo della nostra regione.